Buongiorno ragazzi, come vedete sono in regola, mascherina, mascherina, ma volevo fare due chiacchiere, volevo salutare l'amico Badessa, Salvo Badessa, che proprio da martedì sera aveva deciso di fermare i giochi e puntualmente ieri sera è uscito di tutto di più. Infatti io l'ho contattato con messaggio vocale su whatsapp e gli ho detto Salvo, ma hai visto? Hai visto cosa è successo? Si è ripetuto praticamente l'ambo 42-48 su Genova che era l'ambo che era uscito nel test della lottomatica di martedì che erroneamente ci hanno fatto vedere e non solo, lui oltretutto aveva un terno in una quartina ed è uscito anche quello, oltre alla beffa l'inganno io lo dico così. Comunque caro Salvo, purtroppo il lotto è questo, tu hai continuato a decidere di stare fermo ancora nonostante potresti secondo me riprendere i giochi perché le tue tecniche, esempio ieri sera, sono usciti tanti i numeri tuoi dei tuoi metodi, però io rispetto la tua scelta, ognuno di noi rispetta la nostra scelta. Io stamattina ho aperto il mio sito internet Mimbo Nazionale, previsioni lotto gratis e ho rivoluzionato la previsione iniziale e i tre ambi secchi perché mi sono rotto le palle pure io, perché sto lotto mi sta a fa' impazzire. Quindi caro Salvo, che dire? ti faccio comunque i miei complimenti, Salvo, come vedi qualcuno non ti ha dato lette, ha fatto bene e ha vinto 345 euro giocando 1,50 euro di ambio secco su Genova, mi sembra di aver capito che ha centrato il 22 col 67 un ambio di distanza 45. Quindi caro Salvo, ti faccio i miei complimenti e ti dico ripensaci, ripensaci! ripensaci!